Marietto, ma ti posso fare una domanda? Sì! Secondo te, io e Ricky, da 1 a 10, quanto siamo bastardi? 10 10 sei sicuro? Ma pensi che siamo stronzi così? Anche di più! Anche di più, grazie! Stamattina, ragazzi, arrivo a lavorare, contento che lì c'è. E cosa vedo? Ragazzi, devo non uscire dentro. Ho trovato la macchina di Dario con finistrino aperto. Marietto, ma la mamma non ti ha insegnato a non fidarsi mai di nessuno. Guarda che cagata ti stiamo facendo. Con questo, caro Dario, ti devo farti auguri di buon ferragosto. Vamos! Ragazzi, siamo pronti. Uno, due... Dove stiamo andando, Dario? Io a casa. E poi? In palestra. Sei sicuro che arriviamo? Sì. Sei troppo sicuro? Io ci arrivo perché è nostro successo. Cosa mi avete fatto? Ma noi cosa abbiamo fatto? Ma secondo te cosa possiamo fare noi? Uno, due, tre! Sono un po' bastardo. Nooo. 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 Dario, secondo te di chi è stato idea? Nooo. Cazzo, ti ero più tutta questa roba qua. Nooo. Indovina, di chi è stato idea? Ma faccia c***o, ce n'è un altro. Nooo. Che bastardo. Era ultimo. Ma non me ne ha presi le chiavi. Ma sapevi i finestrini aperti? Eh, è possibile. Ti lo giuro. Cazzo, ti retta questa roba, dai. Dario, ti abbiamo fatto bella sorpresa. Dai, Darietto, ci vediamo in palestra, Dario. Sì, ma va a c***o che avevamo pensato dopo mezz'ora. Adesso siamo in palestra. E tra poco si ricomincia a lavorare. E come dice Luca Orezzi, e si va. Nooo. 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 Nooo.